fedez è tornato a far parlare di sé per aver parlato del concertone del primo maggio non è stato invitato nelle ultime ore il rapper fedez è tornato a far parlare di sé per aver pubblicato due vocali su instagram nel primo annuncia il ritorno del love me il concerto di sua ideazione che si tiene a milano mentre nel secondo è tornato a parlare del concertone del primo maggio e di come non sia stato invitato fedez fuori dal concertone del primo maggio non mi hanno voluto come ogni anno a roma si è tenuto il concertone del primo maggio dalle 15 di pomeriggio fino a tarda sera mentre l'evento si stava svolgendo fedez ha scelto di annunciare la nuova edizione del suo festival love me l'evento arriva alla terza edizione e ad annuncialo è stato proprio il rapper milanese nel suo gruppo segreto che ha su instagram nonostante sia spesso assente ogni tanto torna a parlare con i suoi iscritti per regalare delle news l'ultima interazione con i suoi fan nel suo gruppo instagram era stata durante il quakella festival mentre guardava il concerto di lunga balvin alcune ore fa però mentre si stava svolgendo il concertone del primo maggio il rapper è tornato a parlare pubblicamente dell'evento che ogni anno va in diretta su rai 3 prima però ha annunciato il ritorno della terza edizione dell'ova mi non so perché ve lo sto per dire perché non vi cago mai ma solo per voi del gruppettino volevo dirvi che l ov mi sta per tornare grandi novità magari dopo lo cancello perché mi sgrideranno tutti il love me è il concerto evento gratuito ideato proprio dal marito di chiara ferragni che ogni anno raccoglie fondi per una causa particolare nel 2023 i soldi erano stati destinati all'associazione andrea tu disco odv che da 26 anni opera per garantire il diritto alla salute dei bambini il rapper poi ha mandato un secondo messaggio audio ai suoi follower che aveva a che fare con il concertone del primo maggio ah e per chi me lo stesse chiedendo non sono al concertone del primo maggio non mi hanno invitato chissà come mai cioè l'ultima volta era stato divertente il suo audio è stato volutamente ironico per ricordare la sua partecipazione all'evento nel 2021 quando finì per accusare la rai di aver censurato il suo monologo contro la lega e a favore del ddl zan la polemica rimase molto impressa negli anni questa non è la prima volta che il rapper fa un riferimento al concertone anche nel 2022 ammise che gli sarebbe piaciuto essere a roma ma probabilmente avevano smarrito il suo invito